Buongiorno sono Giampaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento una splendida Citroen C3 1002 da 60 kilowatt 82 cavalli alimentata a benzina idonea anche a neopatentati in una versione exclusive. Ha un bellissimo color viola perla metallizzato, ruote in lega, sensori di parcheggio, specchi abbattibili elettricamente, pacchetto cromature, luci diurne led, immatricolata a gennaio 2017 con soli 58.000 chilometri percorsi naturalmente originali. Vi mostro gli interni, veramente molto bene equipaggiata questa macchina. abbiamo sedili in stoffa panno grigia, volante sportivo tre razze in pelle e con listello cromato, ecco i 58.000 chilometri. Abbiamo sistema di navigazione satellitare cartografico touchscreen e abbiamo anche radio media Apple CarPlay. Faccio vedere. Mirror link, CarPlay, climatizzatore automatico, cambio meccanico 5 rapporti, parabrezza CL. Infatti abbiamo la possibilità di far avanzare l'oscurante. Anche il sedile posteriore è praticamente in tonso. È una vettura che vendiamo con 12 mesi garanzia legale di conformità con ulteriore possibilità di estensione. È disponibile in pronta consegna presso il nostro autosalone Pasolini Auto. Vi aspetto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.